Perché i nostri impianti casalinghi ad osmosi inversa vanno bene per tutti? Progetto Acquametro Zero. Non produrre per non dover riciclare. Questo è un video risposta perché nasce da un commento che ho trovato sotto un video sul mio canale YouTube. La persona in questione faceva notare che gli piace dove parlo da tecnico, ma non dove parlo da chimico. A parte che io non mi sono mai fatto passare da chimico, né da ingegnere o per qualsiasi altra figura che non mi appartiene. I titoli li lascio a chi crede di essere quel titolo lì. Io sono, e lo sanno tutti i miei clienti, semplicemente Davide, il tecnico del depuratore. Il termine tecnico l'ho guadagnato sul campo, lavorando da oltre 29 anni nel campo dell'idraulica e da oltre 20 nel campo della depurazione acqua. Non è un'onorificenza, ma semplicemente il modo in cui mi identificano, essendo io quello che gli ha installato l'impianto e gli ha fatto le manutenzioni negli anni a seguire. E per alcuni sono quello che gli ha risolti i problemi su impianti di altre aziende, che erano sparite dopo aver venduto un impianto di purificazione al malcapitato. E dico malcapitato perché nel campo della purificazione d'acqua casalinga, di aziende truffaldina è pieno e purtroppo troppe persone capiano tra le mani di certi filibustieri. Non a caso mi sono messo a fare video, infatti uno dei motivi è informare più persone possibili di stare attenti ai pacchi che certi venditori, poco onesti, tirano. Il commento in questione dice che io non posso consigliare un impianto d'osmosi inversa a tutti. A parte il fatto del cosa io possa fare o meno, sicuramente, senza esclusione di dubbi, della mia vita io sono l'unico responsabile. E solo io decido cosa posso fare o non posso fare. In quanto essere indiscutibilmente causativo e perciò responsabile di tutto ciò che causo, attiro e interpreto. Quindi, osservo il suo commento da un altro punto di vista. Forse gli impianti che costruiscono le altre aziende possono non andare bene per tutti, ma i nostri sì. È una questione di tecnica, non di chimica. È una questione di progettazione, non di chimica. È una questione di attenzione, non di chimica. È una questione di sapere tutte le funzionalità del proprio prodotto, non di chimica. Se uno conosce solo ciò che c'è scritto sui libri, può conoscere la teoria. Ma uno che sperimenta sul campo conosce la pratica. E la pratica batte sempre la teoria. Perché, proprio come dice un vecchio adagio, la teoria è nulla senza la pratica. Al contrario, invece, attraverso la pratica e perciò attraverso la sperimentazione, si può acquisire anche la teoria. Non a caso si dice anche che sbagliando si impara, ovviamente, solo se si è disposti a riconoscere di aver sbagliato. Se no, si resta stupidi come prima. Il motivo del perché i nostri impianti casalinghi ad osmosi inversa vanno bene per tutti è semplice. Perché non erogano solo acqua osmotizzata. E negli ultimi tre anni, in tutti i miei video, lo ripeto, fino allo sfinimento. Ma nonostante tutto ci sono persone, come questo commentatore, che non sanno nemmeno o non vogliono nemmeno ascoltare. Ma si sa, il mondo è pieno di presuntosi o di su tutto io. Ecco, probabilmente queste persone rientrano in una di queste due categorie. Io, dopo vent'anni che lavoro, nello specifico nel campo della purificazione d'acqua, vado ancora in giro a visitare fiere, aziende e cerco di parlare con tutti quelli che si occupano di acqua, per capire se ci sono novità o per capire cosa fanno gli altri. E questo non per copiare, ma proprio per capire quali sono state le risposte alle varie domande che si sono presentate. Perché la vita lavorativa, e non, la si può rappresentare come un calcolo matematico infinito. Ogni volta che si trova una soluzione, si presenta un altro calcolo e quella soluzione è solo un dato della prossima operazione. Chiunque può acquistare i nostri impianti casalinghi ad osmosi inversa, perché tutti gli impianti possono erogare acqua microfiltrata, acqua declorata, acqua ultrafiltrata, acqua osmotizzata e acqua alcalina. Acqua tecnica, come quella del ferro da stiro, o per le batterie delle auto, o per lavare i vetri e per un sacco di altre funzioni. Basta che, al momento dell'installazione, si decida cosa effettivamente si vuole. Perché bastano alcune manovre all'interno degli impianti e si può avere l'acqua che più aggrada. Certo è, come sempre nella vita, che se non sai quello che vuoi, è impossibile che tu possa ottenerlo. Proprio come è impossibile colpire un bersaglio se non lo si è identificato prima, perché anche nel caso lo si colpisse, non sapendo che quello è il bersaglio, si andrebbe oltre, perché quel punto non è stato identificato come bersaglio. Ed eccomi nuovamente qui a ripetere la solita indicazione che spiega perché tutti possono acquistare ed installare i nostri impianti d'osmosi inversa. Progetto Acqua Metro Zero nasce con l'intento di eliminare le bottiglie dalla tavola di tutti coloro che vorranno aderire, e non è obbligatorio comprare nulla. Si può, semplicemente, smettere di comprare le inutili acque in bottiglia di plastica e iniziare ad avere l'acqua dalla propria municipalità. Ma se non ti piace il gusto o non ti senti sicuro nel berla, Acqua Metro Zero mette a disposizione due impianti d'osmosi inversa in grado di erogare acqua a temperatura ambiente, sia microfiltrata, sia osmotica, sia alcalina, e a richiesta eroga acqua per uso tecnico, tipo l'acqua per il ferro d'astiro. Se vuoi l'acqua fredda, basta mettere una bottiglia della sua preziosa acqua in frigo, e se vuoi potrai gasarla col gasatore manuale di cui è corredato. Inoltre, grazie agli sciroppi che si possono trovare in commercio, potrai prepararti delle bevande colorate e zuccherate, eliminando così anche l'acquisto di quella plastica lì. Quindi, se sei interessato a fare qualcosa di concreto ed intelligente per il nostro presente e per il futuro di tutti, e vuoi acquistare un impianto di purificazione acqua, mandami un messaggio whatsapp al 348 780 0055, o una mail a davidepriore.eu, oppure semplicemente chiamami. Ti invierò un pdf informativo e la scheda dei prodotti comprensiva dei prezzi. Se hai capito l'importanza di questo video, ti è piaciuto e pensi che possa essere utile anche ai tuoi amici e parenti, lo puoi anche condividere sulla tua pagina facebook oppure tramite whatsapp. Se stai guardando questo video dal pc e lo vuoi ricevere tramite whatsapp, me lo puoi richiedere sempre tramite messaggio al 348 780 0055. Magari se mi scrivi anche il tuo nome e cosa ne pensi o cosa ti piacerebbe sapere di più sull'acqua. Se non sono dei video che ho già fatto e che puoi trovare sul mio canale youtube, di cui ti indicherò ovviamente il link, potrei fare un video specifico in risposta, perché ciò che può essere utile a uno, può essere utile a molti. Grazie per avermi ascoltato fino a qui, ciao e al prossimo video messaggio.